è già la quinta volta che faccio sempre mio acqua e nero però lo stesso vabbè ciao a tutti ragazzi qui è Mewtwo Femman e Pakeman hola professora allora innanzitutto prima di iniziare questo video che in realtà è una reaction provano a spaventarti allora già ieri non ho fatto video perché ero dudo e non potevo fare il video alle 5 casino allora questo video si intitola provano a spaventarti perché è una challenge vi sfido e se raggiungiamo almeno i 12 like so che sono tanti però io vi chiedo i 12 like ve ne porto un altro allora questo video grazie ad ogni iscritto che sono riuscita a trovare però sarà dura a spaventarti perché mi hanno detto che è molto duro da spaventare proprio via ok e cosa sarebbe sto coso scusate rega questo non lo so veramente e cosa sarebbe sta roba non sto capendo siamo negli anni 90 o gli anni 2000 scusatemi cos'è il taglio della forca cos'è il taglio della forca ok io non ho visto niente io non sto capendo cos'è la scp e questa è la prova non spaventarti io non sono manco spaventata ma cos'era sta sto sto video che mi hai mandato tu che stai guardando e mi hai chiesto di fare prova non spaventarti ma che razza di video mi hai mandato vabbè rega in tal caso non era una prova non spaventarti infatti non mi sono manco spaventata come avete notato ho cambiato stanza infatti sono nella mia stanzetta da studio non so se si vede però vabbè ho cambiato stanza perché in camera fa freddo e quindi io non amo ammalarmi e in tal caso questa era non spaventarti perché è stato giù un gioco che fa veramente schifo vabbè e quindi spero che questo è durato molto breve perché non potevo vedere delle scene macabre e ho messo in pausa perché c'erano delle scene macabre e ho detto no è meglio non fare vedere e come al solito mi invito a spoliciare condividere iscrivervi questo canale seguimi su instagram troppo credo che quando avrò 16 anni creerò un account per facebook noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao